Nelle puntate quelle previously Un libricino Ammassa la gente Divento il signore Sei cattivo Io so bra E te lo dimostro ammassandoti Lei non sa chi sono io Lei non sa chi tra noi è Dio Sono io Quello bra La terza puntata del libricino del muori Comincia con la polizia giapponese Che fa il punto della situazione Sulle informazioni che la gente Il popolo ha dato Oh il popolo Noi Sempre utili per la comunità Ci sono 3000 casi di gente che dice Sì sì l'ho visto Ma forse no 14 persone che dicono Sì sì l'ho visto te giuro So sicuro Kira è mio cugino Eppure 21 frebuter Che dicono Io so Kira Sono tutte cassate Sì Serva un cazzo sta plebbe Solo per le tasse Però i 21 frebuter Restano gli uguali Non c'è da uno sta tra le persone normali E le vittime? Tutti i criminali a cui Kira Gli ha fatto schioppar core Era tutta gente che si poteva Conoscere pure in Giappone O comunque con la faccia Il nome noto E come richiesto da L Abbiamo controllato L'ora dei decessi E so quasi tutto Tra le 4 del pomeriggio E le 2 di notte Mentre nei festivi Non si festeggia manco Ben cazzo Perché si muore All day long Quasi ore che mi fanno pensare Che il colpevole Sia uno studente Ma perché? Ma non può essere un disoccupato Uno che c'ha il part time Rasaglio di Ockham Eh? Vattene a cercare Che sto qua riservi casi Dove sta preso a te? L'assassino ammazza solo persone Che te Questo mi induce a pensare Che? Vuole far il dermare Solo a chi se lo merita? Si crede una specie di divinità Ma Perché? Vabbè il genio sei tu Vabbè Non chiedo guarda Si ma sono solo le mie concetture Possono assolutamente assate L'assassino potrebbe essere pure le scine chimiche Le scine chimiche No Le scine chimiche La cancelliamo Valutate tutte le possibilità Qualcuno di voi ha idee? No no Io non ho studiato un cazzo ieri Andava avanti col programma Ma c'è L che è andato volontario no? Che vuoi da noi? Io ero sicuro di sfangalla L dovevi parlare fino alla fine dell'ora Io 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 Eccolo Il cocco del capo Hai visto? Si era pure seduto vicino a lui A riunione A secchione Questo è Mazzuta Il diminutivo di Massa quanto suda Non è vero Un po' si Perché fa una cazzata dentro l'altra E poi rimane così Lo vedrai Lo vedrai Però è molto bravo E a me piace Che idea hai? Nessuna Interessante Volevo solo dire che in questi ultimi tempi I crimini sono calati È innegabile Stai dicendo che chi era bravo? No 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 Sto dicendo che è bello che i crimini siano calati Ma è la stessa cosa detta in modo diverso È come dire? Stai dicendo che uccidere i cuccioli di foca sia giusto? No 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 Sto dicendo che è bello avere tanti guantini morbidi Ma che cazzo? Non lo so che cosa ci fanno quei cuccioli di foca Non lo voglio ma cosa be' Però hai capito? Cioè ma è uguale Ma che cazzo? Una cosa è la conseguenza dell'altra Oh vabbè dai No no Sì No 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 Ok Visto vado contro il capo Non sono un secchione Capo vuole un po' di Caffè Grazie Senta capo super kamiguru Dimmi Mi dispiace per prima che le sono andato contro Ha ragione Io sono un mertino E lei è bravo Scusa 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 Tranquillo Non lo so Quello che hai detto È vero E lo sanno pure gli altri L'importante è che tu abbia detto I crimini so diminuiti E no bravo Kira Le parole sono importanti Anche se è la stessa cosa Detta in modo diverso Non serviamo per culo Però ok Non pensi che Kira sia bravo ero? No 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 E invece sì Primo piano di Ryuk Che guarda Light fare il bravo fratellino Lui è bello Intelligente Simpatico Famiglia perfetta Affascinante Fortunato Modesto Entusiasta E amorevole Verso la sorellina Hai capito? Sì Grazie fratellino Oh sono molto contento Mollevate dal cazzo Che devo far soffrire le persone Per poi dargli l'obbligo eterno Sì Oh è tornato papà Oh conoscemo pure il padre de Light Io me lo immagino tipo lui che ha le rughe Ancora più killer passo Più Subdolo Manipolatore Che farà del lavoro? Proprio una cosa senza anima La gente de borsa Lo speculatore Vende gli organi de nonati Quelli con gli occhi grandi Che fanno tenerezza E i cuccioli de foca Ciao papà Ma che cazzo sta da Dio? Il capo della polizia E il padre Sono tutti parenti Tutti parenti di tutti Beautiful Ryukiful E io me magno le mele Zan zan Io voglio ridere Poi chi vi ci frega Un cazzo Come va lo studio? Se dire avanti Ah il mio fratellino Bello e intelligente Si pare che affascinante Tu sia Samoteone Ma soprattutto modesto È il migliore del Giappone Che è una cosa figa Pensa se tu fossi Lo studente e studentessa Migliore d'Italia Minchia In Giappone fanno ste cose Il padre gli dice un cazzo Manco bravo gli dice Il migliore del Giappone Oh ma dove vuoi congratulare? Eh c'hai ragione Light Mannaggia L'unica cosa buona che hai fatto È un vita tua vecchio di merda Ce l'hai davanti Sono io Vabbè calmo Light Sei un pezzo di carne E basta Papà È come se un tirannosauro Chiamasse una formichina Papà Il tuo cui è più vicino A quel pezzo di pesce Che te stai a mangiare Che armio Calmo Light Respira Scrivi i tu nomi Rilassate Hai detto qualcosa? Ti vedo stanco papino Eh c'è un caso difficile Ma no Ma no Davvero? E cosa potrebbe mai essere? Eh Si ritorna in camera di Light Ora capisco Perché sei così tranquillo Tu vuoi era il capo della polizia? Eh no Che culo Certo Luke Sei andato a tirare il libro del muori Proprio nella scuola dove studia Il capo della polizia Che è bello Utilizzato Facce la tua famiglia perfetta Eccetera Davvero? Quindi posso entrare nel pc di mio padre Con i mouse Quelli vecchissimi Stasera è vecchia Ma con gli smartphone c'erano Era tutta a campagna Gli scenicami ammazzavano in orario Entro Mi leggo tutto Chiudo senza lasciare tracce Come? Come cosa? Come non lasci tracce? Dove hai imparato? Ma lo sai come funziona un pc? Guarda che è più complicato di così eh Eh? Vabbè dai fammola semplice Azz Già sospettano che il colpevole sia uno studente Ah Minchia Già testano a beccà Eh sì Mannaggia Devo fare qualcosa per fargli cambiare direzione Per sviarla sta cosa Ricapitoliamo Spiegone alla occhi del cuore Nelle serie televisive Ciclicamente bisogna rispiegare quello che è successo La trama Si fa soprattutto per i vecchi Cristina Anzi Alla occhi del muori Gli occhi del muori Gli occhi del muori Muori Userò gli occhi del muori Per capire tutti i tuoi dati Per capire cosa pensi Mentre cerchi degli indizi Muori Dopo aver scritto il nome Ho a disposizione i 40 secondi Per scrivere la causa del decesso Come i 40 anni Deso di 40 giorni di carestie Altre cose Numero sacro Grazie Che nei commenti me l'avete detto Poi ho a disposizione altri 6 minuti e 40 secondi Per scrivere i dettaglini fegatelli 6 come i giorni della creazione del mondo Ma perché mi ripeti le cose che so? Per la gente a casa Ah quindi se io scrivo un nome e basta Dovrebbe morire di arresto cardiaco Si Ma se scrivo Gino Pippo E arresto cardiaco Muore ugualmente di arresto cardiaco Ma che ne so Non lo so Non lo uso così Ma perché poi dovresti farlo? Perché così posso scrivere fegatelli E gli faccio far quello che cassa mi pare a me E poi muore di arresto cardiaco Ma perché pensi a ste cose complicate? Non lo sapevi eh? No Ma perché sti cazzi? Io non ci penso così tanto a ste cose Io penso alle mele Le mele Buone le mele Montagione con la musica figa? Light che caro ragazzo Light con la light che lo illumina Inception Light Ma chi potrebbe mai sospettare di lui? Non ha fatto niente di male Carcerati che crepano malissimo Light gioca a calcio Ah che bravo figliolo Gli presenterei mi sorella se ne avessi una Ah muoio Tutto bene 148? Apriamo questa busta Camicia al petto Ah oddio NANI? Mi stai dicendo che sono morte 48 persone Una ogni ora nei giorni feriali non festivi E che manda a puttane tutte le concetture di L Così instant Due giorni dopo? Cì Quindi non è uno studente No Vabbè Può essere stato a casa due giorni Magari c'ha la febbre Tu sei un bravo È vero Non è vero Chi non si sta dicendo che può uscire Quando cazzo gli pare? Ma allora come famo? Non vale così dai Ha ammazzato solo gente dietro le sbarre Quindi persone che avremmo scoperto subito L'ipotesi dello studente è meno probabile Sì però È un pochino strano che io faccio un meme E due giorni dopo ne esce uno uguale su un'altra pagina No cioè Io faccio una concettura E sbam Devastata due giorni dopo Beh L Magari è perché Te sei sbagliato No Perché Kira è conoscenza delle informazioni della polizia Oppure te sei sbagliato Informazioni polizia Kira si è accorto che la poteva far prima sta cosa Dire con l'allora del decesso Ma che non ti rendi conto che se la gente muore dai quattro un po' Possono sospettare uno studente? Eh sì ci potevo pensare prima Ma vabbè Dai due giorni dopo Ma stai a sfidà Mi stai sfidando? E non si riesce a starti dietro Stai dieci anni avanti Sì accetto la sfida Eh 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 Mo elle starà ampicciatissimo Sto ampicciatissimo Ho tenuto da parte una cinquantina di criminali Pevenienze come questa Ma sì Cinquanta persone Parlane come se fossero monetine Li avevo risparmiati Nel senso quello vero Risparmiati Ma mo li ho spesi Genocida Cinquanta persone E due giorni Po sembra una cassata Che io abbia smentito tutto Proprio due giorni dopo Che elle siano uscito con l'atereo dello studente E infatti l'hai fatto sospettà Bene Ma come bene? Elle sospetterà di quelli della polizia Qualcuno ha accesso alle informazioni Quelle top secret Sto sospettata alla polizia Ma questo mi starà a far sospettà Della polizia apposta? Ma perché lo stai a far sospettà? Non ti sei tirato la zappa Che serve ad adarare i campi Dove pianti i semi Che fanno gli alberi tipo i meli Le mele Vuoi che buone? Voglio le mele Sui piedi? L'ho fatto apposta Ma là sei masochista L'ho fatto per far uscire elle allo scoperto Vedi? Tutta l'umanità si basa sui rapporti de fiducia Aridaglie con la filosofia Che bella la filosofia Ecco perché è bella sta serie Uguale al firm Uguale i denti La filosofia uguale al firm Tutta l'umanità si basa sui rapporti de fiducia Sta frase la posta insieme ai selfie Che cazzo so i selfie? E tra la polizia elle Non c'è mai stato sto rapporto de fiducia Come fai a fidarte di uno Di cui non conosci nel volto o nel nome? Questa la tricherà A questo punto elle cercherà di capire chi Tra la polizia è l'anello debole Da cui Kira frega le informazioni E indagherà Ma la polizia ha studiato C'hanno i pezzi de carta Quindi si accorgeranno che elle Si sta a fai cazzi loro E indagheranno a loro volta Per scoprire chi è Sulla carta su amichetti Yeee Ma in realtà ognuno cerca di farsi i cazzi dell'altri Sarà la polizia A trovare elle per me Paghi le tasse Sono miei dipendenti E poi io Cioè casualmente Fatalità Il cuore Gli schiopperà Che è sta roba? Sedamo Ciao Team messaggio gratuito Chi te sei in culo? Aspetto Tu 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 E perché non volete più essere i miei amichetti? Perché ci abbiamo sta strana pretesa? Quasi una malattia lo so Pochi casi al mondo Sta strana voglia di voler vivere Siamo investigatori In base alle informazioni che ci ha dato elle Abbiamo capito che chi era in grado di uccidere a distanza Tipo fosse nap Introducing Ammazza Tocca la morte Hai contatti in rubrica che non usi più? Eliminali Da tutto questo abbiamo capito Come arrestarlo? Che la prima cosa che farà sarà Le va a dar cazzo chi cerca di catturarlo Vero, vero Facile per lui Nessuno sa chi sia o do sta Mandano come scudi umani Quelli col cui sottarcento E tanto a che cazzo servite se no? E lui rimane a guardare E alle che fa? Noi andiamo in giro col distintivo Dove c'ha la fascia e il nome N'è più un distintivo E' un passaporto che diventa morto E' un passamorto Faccio un salto, confermo tutto Ciao coso Dove andate? Questo si farà che lo vogliate o no Traditori! Tornate nel vostro buco del nord Cosa? Avrò le vostre teste su una picca E elle se li guarda Torniamo a scuola da light Tutte cose matematiche Tutte cose matematiche Tutte fratto cose elevato al matematiche Ryuk noiava più E capisce che la vita non è solo omicidi E per tre quarti del tempo Sto ragazzino deve fare le cose del ragazzino E decide di porre fine alla sua vita Non ti buttare No Guarda fuori dalla finestra E spam Uomo sospettissimo guarda verso la finestra della classe de light Che cosa è quello? Gli agenti che ha ordinato su FB Bay Taglia tagliamo questa nastro tagliala Sono arrivati Ah mi stai facendo capire che è un agente questo? Ma perché sta dietro al palo sospettissimo? A me sta cosa mi fanno tagliare Questo è stato pure addestrato Ma c'è bisogno che questo sia fisso a vedere la finestra Ma non lo vede light primo Secondo Vatta a sedi ambar Sembri meno sospetto così Ma che cazzo ti ha addestrato? Tampocissimo Guardalo pare un maniaco Vabbè dai L li aveva messi nel carrello E poi ha proceduto al pagamento Per investigare sulla polizia giapponese E i membri delle loro famiglie Tra questi c'è l'assassino Spam light Giratelle Girate lui Girate Vabbè Light torna a casa dopo la scuola E a Ryuk gli va di chiacchierà Light te posso dire una cosa? Vabbè Ma io non te posso rispondere Lo sai che se no sembro matto Ma stai rispondendo light Io sono molto happy Che il quaderno l'abbia preso Una persona bella Affascinante Simpatica Intelligente Fortunata Entusiasta Modesta Come te E amorevole Ma a me non frica proprio un cazzo Se vincite O.L. Io voglio solo vedere che succede Spettatore Voi siete il mio Netflix Muorflex Ammassa però Io te do le mele Non preferisci un pochino di più me? Eh Mele Ok sì dai Un pochino più mettettivo Bra Non è vero Detto questo Ma te dico una cosa Perché dà fastidio a me No perché te voglio aiutà Quanto ghiacchieri Ryuk E che? Eh questa è la parte per far conoscere meglio il mio personaggio Capito? Ah ok Comunque light Continua a parlargli In mezzo alla strada Ma quello che fra pochissimo te dicono Non ha sentito niente Cioè Mi si è chiesto che cazzo è Ryuk Con chi sta a parlare Vabbè C'è una cosa che mi dà fastidio La vuoi sapere? Ode sta con la sputa il rospo Il torsolo C'hai un follower La 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 Azza ti ha fermato Mi metto qua dietro Azza Vabbè Me sta a fare o si cà Non mi può vedere ok Ma mi dà fastidio Che uno mi guardi il culo così Tutto il giorno Insomma Ha poco senso quello che dici Ryuk Gli stai dando una mano E basta light Ti senti osservato Ma te puoi vedere Dillo Te sto a dare amaro Vabbè Che bello Già c'ho i fan Ma sa che non è un fan Ah no? Allora te lo toglierò di torno Molto presto Che L abbia già cominciato A sospettare della polizia? Eh sì Gli ha fatto Capito? Bene Gli serviranno un bel po' Da gente Panna presso a tutta La polizia E i familiari E io dovrei sembrare Solo un normale studente Sì però Sospettano proprio De uno studente Light Devo scoprire come cazzo Si chiama Ma siamo sicuri Che non è un fan Che vuole una foto con me No eh Ma beh Light C'è una cosa Che non ti ho detto Eh oh Ryuk Ma che c'hai oggi? Ti devo dire delle regole Ryuk Tu le regole Non le devi dire Le devi scrivere Tutto nel quaderno Cazzo Come la roba Che se tocchi il quaderno La gente ti vede Devi scrivere le cose Ci sono due differenze fondamentali Tra un dio del muori E un essere umano Con il libricino del muori Per esempio Lo sai perché Noi scriviamo i vostri nomi Sul quaderno? E se non lo scrivi Tra le regole Non lo so Che ne so Perché ci freghiamo Tutti gli anni di vita Del tizio Che abbiamo ammazzato Prematuramente Zingari Esempio Frank Anton Pino Deve morire a 60 anni Ma io scrivo il suo nome Sul mio quaderno Quando ne ha 40 60 meno 40 20 E io campo Due decadenti in più Dai eh Se sarà come Per questo siamo immortali E proiettili Cortelli O parole cattive Non possono ferirci Minchia che figo E lo posso fare pure io? No Mannaggia Questa è la prima fondamentale differenza Tra un umano Un dio del muore E la seconda Sono le ali No Cioè sì Allora la terza La terza No no Sono solo due Non mi confondi La seconda è che un dio del muore Sa subito il nome di chi deve uccidere Non appena lo guarda in faccia Umano pronto da ammazzare Ah non è andata la nagra Per far darci No E lo sai come facciamo a saperlo? Se non lo scrivi su sto cazzo di quaderno Non lo so Ma come ne so Ma che ne so Grazie ai nostri occhi Gli occhi dello cinema Fingami Hanno il potere di vedere Sia il nome della persona Che la sua durata vitale Così sappiamo Quanto potremmo Campar di più Dove ce l'ho scritto Qua sopra? Qua tipo neon Sì Io adesso posso vedere La tua durata vitale E convertendola in anni terrestri So quanto te manca Finché non schioppi E allora dimmelo No Ma sei un bastardo Mangi le mene a sbafo In casa mia Non mi dici niente E infine Uno shinigami Può dare i suoi occhi A chi possiede il quaderno E te diventi cieco? No Dico dare Ma te ducco Faccio boop Ed ecco gli occhietti del muori Cioè Ne creo altri Così anche tu Potrai vedere subito Il nome della persona Che vuoi uccidere Ma il prezzo per averli è Dai però Siamo arrivati alla fine Dura più l'assunto della puntata La metà Del tempo che all'umano Resta da vivere Se ti rimanessero 50 anni Me ne pio 25 Se te ne rimanessero 10 Me ne pio 5 Se ti rimangono 2 minuti Me ne pio 1 Porco giuda Metà della mia vita E tantino Ma se lo facessi Sarei veramente un dio Te guardo Zap morto Che cosa vuoi fare Light? Scopriresti subito Il nome di questo qua fuori È allettante Ma dimmelo tu il nome di questo Allora no Se c'è sti occhi No Sono neutrale Ti do una mela Non mi compri Con queste sciocchezze Un cesto di mele Sono neutrale Ho detto no Ti compro Un melo Gli occhi Lidono Shinigami Per un melo Contropoposta Attenzione Potrai vivere sotto di esso E cogliere le mele Da solo Quando vuoi Come vuoi Che te frega degli anni mia Tanto ammazzi la gente a caso Gli anni le accumuli Ma le mele Sì sì Si chiamarei No 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 Devo essere forte Cosa vuoi fare Light? E le ali? Cos? Te do tre quarti di vita Ma dammi pure le ali No Gli occhi Ce penso Te faccio sapere E quando? La prossima puntata Fine Ma no Aspè Primo piano del tipo Che c'ha una faccia da bravo ragazzo Allora non è un maniaco Che sia veramente un fan? Un agente dell'FBI? Chissà Fine A presto Ciao ciao